La dodicesima edizione delle fonti awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Partiamo con la categoria Banking and Finance e andiamo a premiare l'eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership MPL. Il premio va a Davis & Morgan. Per essere uno dei maggiori player indipendenti nel mercato dei non-performing loans italiani, per intrattenere rapporti con molteplici investitori qualificati, per l'ampia preparazione e expertise. Eccolo, Davis & Morgan, eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership MPL. Grazie, complimenti, foto. E quando... Stia ancora un attimo con noi. Eh, perché che donara col microfono? Ci dica. Beh, è un premio che mi rende molto orgoglioso perché noi abbiamo passato tanti anni a lavorare duro e la strada è sempre stata in salita fin dall'inizio, fin dal 2008 quando abbiamo iniziato. Abbiamo avuto molti momenti di sofferenza, molti momenti di gioia come questo e grazie a un meraviglioso team che ha saputo surfare tra le difficoltà siamo riusciti ad arrivare molto in alto, quindi sono molto contento grazie al meraviglioso team che abbiamo costruito e anche ai nostri azionisti che non hanno mai fatto mancare il loro supporto finanziario al momento opportuno. Quindi grazie a loro, grazie a voi e grazie anche al pubblico meraviglioso. Grazie. Grazie per queste parole, grazie mille. Siamo in presenza del dottor Andrea Bertoni, CEO di Davis & Morgan. Benvenuto. Grazie. Questa sera la vostra realtà ha ottenuto un importante riconoscimento nel settore degli MPL. Ecco, come commenta questa vittoria? Beh, sono contento e orgoglioso perché testimonia la nostra leadership in questo mercato e devo dire che ringrazio molto tutti i miei collaboratori e le persone che lavorano a Davis & Morgan che in questi anni hanno saputo cogliere con grande attenzione le opportunità che il mercato ci ha posto davanti, quindi sono molto contento. Ecco, Davis & Morgan è un intermediario finanziario indipendente specializzato nell'acquisto e nella gestione di crediti deteriorati selezionati. Ecco, le chiedo di raccontarci la vostra storia e il vostro approccio. La storia nasce nel 2008 quando Davis & Morgan è nata come banca d'affari. Quando poi c'è stato il problema del 2008, la crisi finanziaria del 2008, abbiamo capito che il tema dei prossimi dieci anni sarebbe stato quello delle sofferenze bancarie e abbiamo avuto una buona intuizione, quindi ci siamo mossi in questo senso, abbiamo lavorato all'acremente sulle sofferenze da prima chirografari e poi siamo andati negli ultimi anni sull'ipotecario milanese che anche lì ha avuto un buon risultato perché il mercato è cresciuto molto, quindi siamo stati più che ripagati. Devo dire che nel tempo abbiamo anche allargato la nostra compagina societaria, abbiamo fatto entrare sia il dottor Arendt Oetker che è un patron di una società tedesca molto importante tra cui detiene la marmellata Iro e che ci sostiene finanziariamente nei momenti di necessità. Abbiamo raccolto personaggi importanti, il presidente il dottor Malim che viene dalla banca Barclays e quindi ha portato un'esperienza importante a livello di governance della società e quindi devo dire che tutto questo ha fatto sì che la nostra società oggi si ponga nel mercato degli NPL in maniera molto positiva. Ecco, quali sono quindi i vostri progetti e obiettivi futuri? Nel futuro sicuramente consolideremo la nostra presenza nel mercato milanese che già dominiamo e vogliamo continuare a mantenere la nostra presenza in maniera massiccia e importante su Milano. Allargheremo ad altre città italiane, sempre città diciamo del pari di Milano, quali Firenze, Napoli, Torino oppure località diciamo balneari o montane sempre che abbiano una certa ricaduta anche di immagine perché i nostri investitori sono soprattutto investitori esteri e poi stiamo guardando anche il mercato estero, abbiamo messo in questo momento sotto attenzione Parigi quindi probabilmente ci sarà anche un'espansione all'estero della nostra società. Per fare questo chiaramente avremo bisogno di nuovi talenti, avremo bisogno di allargare, ampliare gli uffici e aprirne di nuovi e anche avere nuovi capitali che è quello su cui stiamo lavorando.